Oh te, sto cercatevi, vieni un attimo! Che cazzo? Lo sai chi so io? Io so l'amico dei tuoi mogli, allora che dì se ti faccio 30% ce lo devi dare, eh? A me ne frega un cazzo, qua non sei nella parte tua, capito? Non fai più scemo con me, oh questo è vero, non scherzo, adesso avvisarmi, la prossima volta non ti avviso più, ma mi ha avvisato mezzo salvato, capito? Struzzo. Cazzo mai ci ha ben bravo. Ammete tu un muoio che vuole il 30%, non me ne frega un cazzo, Gennarino, quelli sono problemi tuoi, io ti ho dato l'eroina e ti mettevi dei soldi, come hai sempre fatto, perché sennò ti metto le manette e ti porto a Regina Cieli, perché tu puzzi di morto, lo puoi sapere? Te puzzi di morto, e lo sai perché? E ora te lo dico, è uscito il marocchino dal carcere, gli hanno dato l'indulto, l'indulto. No, sì, tre anni di galera si doveva fare, adesso con l'indulto è uscito e il marocchino ti viene a cercare, Gennaro, il marocchino ti viene a cercare, quello è uno scherza, tu sei un morto che cammina, quello ti spara in bocca, Gennaro, io a mezzo a stessare, non c'ho io. E che cazzo devo fare? Sei un uomo morto adesso, dammi i soldi che io me ne vado, taccano proprio. I soldi ti ho sempre dati? Dammi i soldi. Non me lo farei più? Dammi i soldi, te ne devi comprare tutte le medicini, capito? Stai attento al marocchino, stai attento al marocchino, che sei morto che cammina, puzzi di carogna, sei una carogna. Finché mi sei servito va bene, non mi servi più a me, non mi servi più, non mi servi più, basta, vatti. Voi, vieni, vieni, mi sono morto, vieni. Gennaro, hanno scocchi qui qui veniva di un uomo, a tutte le vero, sono un buce, vuoi, allora sono scocchi di tutto, niente. Vieni, non ti fatti, non ti sono scocchi di tutti. Ti fatti, non ti fatti, non ti sembra molto più sto, non ti farò? Ti fatti, io prendi un uomo, ecco, adesso non ti fatti al tito che non ti sia.. E un uomo non ti sembra, non ti sento, non ti prendi un uomo, senza farò. Questo è un uberto! Non è duro di me! Non è un uberto! Tu non mi serve nessuno. Non mi serve un uberto! Non vuoi dimosizione! Non si Hof need button! D'un uberto! Tu non mi serve perché ci sono ancora la ruonda della barriera? Non mi serve le i городi! a me del mio marito non me ne frega un cazzo a me non do un cazzo quelli sono soldi miei a me mi dividi i soldi io c'ho un figlio senti tu fatti i cazzi tuo prima se sei buono ammesso io voglio mettere a me senza litigare tu non ci metti i cazzo e fatti i cazzi tuo questo è l'amico e questo è sempre l'amica mia a te le dico un'altra cosa a me mi dividi i sordi a me mi dividi i sordi non me ne frega il cazzo di mio marito e ti dico pure un'altra cosa non venite sotto i cazzi popolari perché si abbottano le spazi sparici vai vai io mi vengo dopo partire io devo s'avvertire va bene ciao se no ti metti il bagagato è il fru fatti non metti è il fru è il fru pronto buonasera signore lei non mi conosce io sono gennale sposa il padre di Pasquale sposa ho saputo che lei lavora all'istituto dove tengono mio figlio ci avrei una proposta da farlo sembra se vuole accettare sì ok allora ci vediamo fra due o tre giorni va bene buonasera vai al forno Daniele vai al forno Daniele Daniele mi fanno un favore io devo partire e mi devi accompagnare tu ma dove? devo andare al nord Italia perché? i marocchini mi hanno fatto la pelle mi hanno ammazzato rispetto a Roma mi pare più il culo la faccio più non ce la faccio più non ce la faccio più devo scappare per forza e mi devo da tu e mi fa pure un favore domani sera domani andavo all'istituto ho corrotto da una persona che lavora là gli ho dato 5.000 euro dopo nove anni vedi un mio figlio e sto contento per questo ma lo faccio con Paolo no? ma come faccio a andare con Paolo? come te lo faccio a dire? io non c'ho coraggio a dire e mi disse Paolo con chi usciva con chi usciva con la retana quella c'ha l'AIDS c'ha fatto sesso e l'ha inventato Paolo è stato solo i nomi hanno in danno ospitale a morire lì dentro o i reparti infettivi che mancano i tocchi o fanno pisciare in danno il pappavale o sai che faccio? o faccio morire io io faccio un bel risputebol cocaina eroina con un minuto moro subito e non sta nero Daniele non è peccato perché manda un angelo in paradiso quello non c'ha nessuno se me ne vado io chi ci pensa? hai capito? poi un giorno lo incontrerò non c'ha nessuno Grazie. Perchè mi guardi cosi pa? Secondo te perchè ti guardo cosi? Te ne stai andando? Mi devi andare per forza pa. Però io ti guardo sempre con me. Che sei con me nuffato pa. Hai capito? Ti preoccupare, me scordi te pa. Poi un giorno ritornerò. Facciamo una bella festa. La faccio a chi ci vuole schifo. Non ti preoccupare, non ti lascio solo. Guarda sempre in tua colla pa. Lo sai tu con me sei con me nuffato. Lo sai ti voglio bene. E tu ci hai buttato pure in un pensiero. Ti raccomando, fai bravo. Fai stai come ti voglio bene. Ti raccomando, fai bravo. Ti raccomando, fai bravo. Ti raccomando. Ti raccomando, fai bravo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.